ciao a tutti bentornati qui con una nuova puntata sulla coronella allora come potete già vedere come avete visto dal titolo abbiamo un nuovo attrezzo in fattoria adesso aspetta che mi fermo qua e lo andiamo a vedere meglio sì perché dall'ultima puntata ho lavorato un po screen addirittura ho fatto anche una cosa che magari volevo far vedere ma è ormai l'ho fatta non ci ho pensato di registrarlo ma adesso vi aggiorno su tutto quello che è successo su questa mappa qua in un paio d'ore che ho lavorato screen allora intanto per prima cosa ho comprato il john dir 710 guardate un po elettronica zero il che significa che tutta meccanica adesso vi faccio vedere nel momento in cui vado a salire sul trattore com'è perché è molto molto guardato semplice freno frizione acceleratore un volante quattro ruote e questo è tutto quello che c'è molto bellino da vedere costa pochissimo era intorno ai 7 mila euro allora è per questa cosa qui per gli alberi è molto perfetto anzi è molto perfetto no molto perfetto non si può sentire è bellissimo è perfetto perché non abbiamo la cosa di andare a sbattere contro i rami no ed è poi per quello che è costato 7 mila euro guarda dio lo utilizzeremo soprattutto per fare sta roba qua perché non è molto veloce non ha tantissimi cavalli ma ripeto costato poco qui l'unica cosa che devo stare attento è al zucca perché stiamo stati in due che non sbatto più col trattore ma sbatto la zucca quella mia e contro gli alberi così ma ogni tanto mi abbassano ogni tanto mi sposto ma questo lavora benissimo guardate un po funziona la grande allora dobbiamo fare andata e ritorno per quanto riguarda l'aratura in questo caso per la raccolta no ma per l'aratura dobbiamo fare andata e ritorno strano ma è così oh non possiamo farci niente allora guardate un po' che è forte quando vado ad accelerare accelero freno dai perché non ha frenato forte comunque allora andiamo facciamo un altro giro poi magari questo me lo faccio off screen perché diventa una cosa un po' lunga perché qua dobbiamo fare andata e ritorno e dobbiamo fare andata e ritorno diventa un po' così sì non è molto molto lento perché comunque dove non c'è il terreno lui va veloce guardate un po' come accelera poi diminuisce però comunque è una cosa un po' così così allora andiamo a vedere cosa questo lo parcheggio adesso qui andiamo a vedere cosa è successo in queste due orette dove ho lavorato off screen eravamo arrivati al punto che se non mi ricordo male perché dopo che ho registrato l'ultima puntata l'ho abbandonato un pelo poi l'ho ripreso questo ve lo faccio vedere dopo questo sì da qui possiamo allora stavo svuotando o avevo svuotato se non sbaglio la prima trincea poi cosa ho fatto visto che ci sono e non sapendo quanto spazio ho bisogno guardate un po' ho svuotato anche la seconda così tutte e due sono vuote e ho tutto lo spazio che ho a disposizione in questo caso sono due secondo me qui un milioncino ci andrà non penso che faremo più di un milione un milione e mezzo di di insilato è vero che abbiamo tutti i campi ad erba ma comunque ce n'erano circa 500 pila a trincea in questo caso l'ho tirato fuori tutto ho riempito la stalla quello l'avevo mandato lì ed è arrivato nel frattempo adesso andiamo a vedere anche quello ho riempito la stalla delle mucche o per meglio dire il coso lì con il robotizzatore il robot quello che prepara da mangiare con l'insilato e mi è rimasto qui 877 mila litri di insilato poi è andato su il nostro conto in banca come potete vedere perché ho comprato ho comprato le serre a nord ho comprato le serre a nord e gli ho portato già anche il concime e i pallet quelli vuoti che mi servivano adesso gli porteremo anche i pallet con i semi lo faremo però in puntata e ho mandato nel frattempo anche a caricare il trattore a prendere il concime per portarlo anche ai pallet qui alle serre a sud che andremo a vedere nel frattempo ho messo anche in funzione il mio amico per tagliare l'erba anche sul 30C dunque è un po' di roba l'ho fatta allora perché almeno andiamo avanti perché altrimenti qua facciamo sempre le stesse cose e non mi va così almeno facciamo qualcos'altro vorrei finire di tagliare l'erba su questo campo qui anzi facciamo così che taglio l'erba qua e aspettate ok perché secondo me solo quel poco lì ok mettiamolo qua mi serve un'attrezzatura solo per questo campo diversa da questo perché non va bene ha cambiato di nuovo è un asino sto coso qua non ce n'è da fare fammi dire no no e allora deve fare questo spero ha preso quello secondo me ha preso quello vediamo sì ha preso quello bambito va beh quel po' lì da adesso lo faccio io tanto non è un problema anzi sapete che vi dico visto che ci sono lo facciamo direttamente così tiro via questo coso qua da qua aspetta che è questo coso qua da qua anch'io faccio dei giochi di parole caro mio che è assurdo allora mi metto però sulla linea aspetta attivo solo dietro mi metto qui sulla linea così che il mio aiutante dopo almeno sa quello che deve fare no ok qua la stessa cosa no ma qua tanto è poco qui è poco dovrei seminare un po' d'erba lì ma ok questo è fatto allora un aiutante ce l'ho laggiù uno ce l'ho là vabbè sai che ti dico visto che lui ha pure il percorso caricato adesso io lo do a lui così che almeno stacca qua e stacco qua devi prima dai allora andiamo a prendere il rimorchio quello è silo su uno giusto fa vedere eh voglio fare una cavolata ma a proposito l'altro giorno sbalatamente ho piazzato un punto qua che non ci vuole e allora questo è silo su uno ok andiamo a prendere il rimorchio che ce l'ho lì che dopo lo restituisco perché lo voglio comprare che è inutile andare a pagare sempre l'affitto adesso i soldi ce li ho vediamo nel frattempo speriamo che ehm magari entra qualcosa in offerta allora quello è il campo 35 campo 35 campo 35 ok scarica mmm è troppa roba aspetta allora dov'è mmm si lo sfattoria non mi ricordo più come li avevano eliminati allora serre 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 no campi wow ragazzi come li avevo chiamati biogas 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 chats shero 1 e vibrato sull'uno gli mettiamo l' alternanza ciclo si ciclopede solo consegna ok facciamo questo ok non può raggiungere due maroni perché sicuramente ero sul punto di marcia indietro per quello non può raggiungere ok lui sa quello che deve fare lui lavora e siamo a posto allora carichiamo qui un po' di pallet direi che ecco allora le serre al nord le ho riempite 4 me ne dà ancora qui dovrei vedere se è ancora attivata questa cosa o meno perché secondo me l'avevo spento no qua è la vendita dei cosi che cacchio faccio pure io qui vediamo inattiva attiviamola facciamola lavorare per adesso ok troppi 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 vabbè ormai li ho caricati andiamo al andiamo alle serre a sud dove sono serre 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 nord no aspetta serre qui serre consegna pallet anguria va bene tanto gli faremo il pieno tutta la roba che c'è gli faremo il pieno dappertutto questo sta iniziando a lavorare benissimo allora visto che ci siamo andiamo subito alle serre a sud qui allora scarichiamo il concime tanto ne abbiamo 25.000 tanto ce ne va 10.000 quella piccola parte che rimane me la porto sulle serre nord che poi andiamo a metterci anche che l'altra roba che hanno bisogno piano piano divento professionista questa cosa qua piccolo professionista allora facciamo il pieno tanto 10.000 per fare il pieno perfetto ora il casino è qua perché qua il viaggio a marci indietro è un po' più lungo noi faremo una cosa così vediamo un po' fammolo un po' strano facciamolo così lo sapevo che prendevo il muro lo sapevo ehi troppi muri in giro troppos muretos ok allora io qua cosa gli metto eh no facciamo solo l'andata così tanto facciamo serre a nord 5.000 sì tanto gliene avevo portato no 5.000 va bene perché gli avevo portato 25.000 che gli ho divisi per tutti e tre e questa parte rimanente gli va bene allora serre serre consegna pallet fragole va bene qui tu vai qui l'altro dovrebbe arrivare ma ci metto un po' per arrivare perché il giro è lungo per arrivare qui ci vuole un bel po' di tempo tu che cacchio fai sei già alla fine cioè fammi capire a volte non lo capisco io perché deve fare ste cavolate guarda io non non ho proprio idea perché certe volte fa sta roba così vabbè lasciamo perdere andiamo alle serre nel frattempo loro arriveranno allora dove sono qui andiamo qua che andiamo ad attivare l'acqua quella automatica perché visto che ce l'ho per le altre serre non mi metto adesso a portargli qui le serre rispetto a come si faceva da qui forse ricordo bene boh mi ricordo più acqua activate automatic irrigation thank you very much allora vediamo un po' lattuga si acqua anche qui activate automatic irrigation e poi cosa abbiamo poi i pomodori ok when this system is turned on the water will be automatically filled and fees will be charged your account vabbè vabbè ok va bene quello che l'è ma comunque alla fine questo funziona siamo a posto allora mi mancano i semi per ortaggi vediamo un po' anche gli altri come sono messi così che visto che compriamo compriamo tutto in una volta oh ma qua i pallet c'erano adesso tutti quei pallet cosa me ne faccio me li porterò in in magazzino allora meloni angurie angurie pallet pieno porca trotta allora diciamo che qui mi servono circa 3000 di semi di ortaggi e 2000 qui e siamo a 5000 4000 qui allora 12 12 5 sono 17000 ne compro 16000 e come mi metto mi metto allora 16000 semi per ortaggi andiamole a comprare così nel frattempo arrivano i miei aiutanti semi per ortaggi sta roba qua come cacchio riusciamo a produrla questa cosa qua su questa mappa qui semi per ortaggi wow me ne servono 16000 quanto cacchio ne devo comprare vabbè ah manco posso farlo una a uno su una vita due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci dieci quanto ce n'è ognuno quattrocento siamo uh ne ho comprato 4000 aah quando ne devo comprare sta roba qua allora se ne compro 20 10 su un 4000 di 20 su 8000 vabbè adesso vediamo quanti sono boom lei ha perso il conto ha perso il conto basta quello che è adesso dopo che scarichiamo i pallet dov'è quello con i pallet ah questo è il primo viaggio l'ha fatto oh è arrivato quello qui i pallet allora qua qua fa pieno e fa pieno anche qui ma questi sono già riempiti perché queste erano già piene anche le altre sono piene perché le avevo riempiti io quando lavoro off screen pallet 1000 cioè 1000 ne prendo in totale ogni pallet di questi quant'è 200 su tutte le altre mappe sono tutti da 1000 no in questa mappa qua sono da 200 certo è una cosa stranissima perché fa queste cose al contrario io non ho capito allora farm la coronella magazzino scarica adesso speriamo che almeno queste li prende lì boh non lo so vabbè andremo a vedere quell'altro è arrivato nel frattempo manca poco manca poco manca poco però noto che ah questo è scaricato noto che i percorsi autotref funzionano e oltre a questo posso dire che non ho avuto tantissimi anzi quasi quasi non ricordo che qualcuno si sia lamentato che abbia trovato dei problemi o probabilmente qualcuno li ha trovati ed è stato buono non mi ha detto niente però almeno non ho avuto dei gran dei gran problemi con i percorsi di questa mappa qua ok tutto è arrivato allora facciamo una cosa scarichiamo quel po' di 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 concime riempiamo tutto ho capito lì c'erano i due pallet così almeno questi ce l'ho pieno ma questo non ne vuol più è già pieno mi sembra strano eppure non ne vuole più beh lo scaricheremo un po' qui e poi possiamo anche vedere se quelle gli anguri e i meloni riusciamo a vendere qualcosa 5 e 9 un po' li metto qua e poi come 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 guarda lo sapevo oggi tutti i pali sono i miei mi ricorda un altro giorno anche lì anche lì ho preso tutti i pali ok allora aspetta un attimo questi qua sono solo esteticamente qui no funzionano ma quando ce li ho portati sta roba qua non mi ricordo neanche aspetta questo è già fanno vedere materiale mancante lattuga cacchio manca semi per ortaggi scusa è questo che cacchio era? allora tu ce n'è un altro po' ma qui non ci va? così me lo libero tutto sto coso? oh che cacchio però no me lo dovrebbe dare darmi i trigger por favor vedete che francese strano no non me lo dà perché secondo me è pieno per quello vado a controllare qui veloce oh si è pieno qui aspetta solo che anche qui mancano allora questi dove scarico allora pallet questi cosa sono? sapete che vi dico questa è tutta estetica qui perché altrimenti mi dovrebbe indicare che sta roba qua c'è qualcosa no? è tutta estetica peccato allora fai una cosa tu cosa faccio? quel po' di roba che me ne faccio? vabbè tornatene a casa che adesso vediamo potevamo parcheggiare che per adesso non ho bisogno oh l'ho scaricato benissimo nella speranza che poi quando ho bisogno me li ridì andiamo a caricare tutta quella roba che c'è in in negozio così che mentre poi lo inviamo verso l'SR andiamo a dare un'occhiata ai prezzi per vedere se qualcosa si è fatta perché siamo comunque a novembre e qualcosa si dovrebbe fare a novembre no? ops aha uh guardate qua guardavo lì in fondo non vedevo questi vabbè carica 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 perché non carica? non sono europallet questi? ah alla ricerca del tipo che cos'è? pallet con territorio liquido di sicuro no big bag no grandi sacchi no fuori misura? no non si balle quadrate di cotone no sicuro non sono balle europallet perché non me lo carica? allora europallet no pallet con territorio liquido no 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 oh mi direi che questo non lo carica strano no dovrebbe caricarlo eh adesso li provo tutte tranne le balle no sembrava strano questo mi prende in giro questa cosa qua? allora grandi sacchi non sono europallet fuori misura e non lo sono che significa carico automatico 2? ah si allora non penso che siano rotoballe no ho sbagliato pure il pulsante rotoballe no balle quadrate no mi sembrava strano balle quadrate no europallet perché? cioè sto cosa mi fa incazzare sono pallet cioè ragazzi questi non li carica siamo fritti se non li carica cioè è strano però che non li carica per me sono europallet non vorrei che qualche aggiornamento del Kaiser ha modificato qualcosa qui è strano Grazie a tutti. Adesso non la capisco e non saprei neanche cosa fare. Che cacchio è successo qui? Allora fammi vedere, li provo tutti ma non funziona. Strana questa cosa qua. Boh, non vorrei che ci sia qualcosa, si sia buggato qualcosa nel rimorchio. Aspetta un attimo, proviamo a ripristinarlo un attimo. L'unica cosa che mi viene in mente adesso è questa. E vedete che non lo vedo più il rimorchio. Strano sta cosa qua. Aspetta che mi allontano un pelo. Il rimorchio è qua. Allora, ripristina. Ok. Dove me l'ha messo? Me l'ha messo qui, proviamo. Ah, che due cavoli! Ok. Allora? Europallet. No, lo carica. Ah ah ah! Questa è forte ragazzi. Questa non è forte, è di più, è più forte. Allora, vediamo. No. Niente ragazzi, non carica con niente. Il che significa che facciamo così. Adesso io chiudo la puntata qua. tanto come tempo ci siamo e mi metto un po' in cerca per vedere se trovo quello, il rimorchio buono per caricare sta roba perché caricarla a mano non ci penso proprio. È qualcosa da caricare penso che il rimorchio per caricare sta roba ci dovrebbe essere. E noi ci rivedremo nella prossima puntata sempre qui su La Coronella. Un salutone. Ciao! Ciao!